Sì, noi siamo dell'idea che se fosse questo gruppo di persone sotto il servizio della protezione civile avrebbe modo di acquisire una mentalità un po' più pronta all'operatività, per cui da questo punto di vista non concordiamo con la risposta ricevuta. D'altro canto ho visto oggi nella variazione del bilancio che ci sono 26 mila Euro per la legge che prevede il monitoraggio in caso di incidenti, quindi questo qui da un lato mi rassicura, mi raccomando l'addestramento perché questo gruppo di persone deve essere assolutamente pronto ad intervenire, altrimenti non raggiungiamo l'obiettivo prefissato. Ecco perché pensiamo che sia meglio trasferire questo gruppo sotto la protezione civile, comunque questo sta nella nostra divergenza di vedute, non c'è altro da aggiungere.